non è fottutamente possibile porca troia porco scoiattolo della foresta incantata mannaggia cardarello ma come cazzo si fa? come cazzo si fa? oggi inizia la settimana che porta verso la Spagna ovvero verso Granata poi si ritorna in Italia e poi si va a Bergamo insomma una partita tranquilla e giustamente boom la notizia bomba la notizia che ci fai a stammare tutto cosa pure pure un pennarello mannaggia sto pennarello direi merda ci facciamo allora calma calmiamoci calmiamoci è un intro abbastanza incazzata ma io tengo tutta questa incazzatura da da diversi da diverse ore da quando ho letto la notizia allora calmiamoci buongiorno a tutti buongiorno a tutti benvenuti in questo mio nuovo video e come potete ben pensare il video è rivolto all'argomento principale ovvero all'ospedale SSC Napoli perché alla fine siamo un ospedale non siamo una società di calcio siamo un ospedale mamma mia allora io stamattina bello e bello sono andato a dormire alle due meno un quarto mi sono svegliato alle sei e mezza non volendo io mi sono svegliato alle sei e mezza per bere un po' d'acqua e ho pensato ma sì un thing soon mi è passato andiamoci a fare weekend league ho fatto una partita vinta 8 a 7 quindi il mio oro 3 streaming sito l'ho ottenuto e va bene così e inizia così la mia giornata poi dopo la weekend league un bel caffettino una bella docciarella bella tranquilla rilassato poi vado a leggere su telegram nel mio gruppo esce la notizia lozano fuori tre settimane porca troia porca troia allora io allora ragazzi quest'anno è un anno particolare per tutti per tu soprattutto per noi soprattutto per noi noi abbiamo iniziato la stagione con zilischi e il mass positivo poi la rottura di osman poi la positività di ramani e di sai il nazionale poi l'infortunio di mertens poi vari infortuni minimi di insigne e di demme poi ma ci ho perso qualcosa forse mi sono perso qualcosa sicuro la positività di culibali e manu ma io quest'anno è un anno particolare ma noi cioè prima dell'anno prima di iniziare l'anno sapendo che questo sarebbe stato un anno particolare tra covil tra infortuni perché fare una partita ogni tre giorni non è facile il fisico nei giocatori va bene che guadagnano milioni milioni io lo sapevo benissimo però sono sempre esseri umani e il fisico non può reggere ok ma perché prima della stagione non potevano farsi benedire da un prevedo ricchione poi voglio capire questo perché oppure prima di iniziare il ritiro la ruota in torre dell'ombara una cosa del genere qua capici cadrete all'angolo vi prenotavate una bella un bel viaggetto un bel volo per l'urde e vi facevate benedire perché non è possibile non è possibile che tutti i titolari si sono fatta male l'unico che non ne ha risentito dei vari infortuni tra covid dei infortuni muscolari sono di Lorenzo poi Mario Rui e vedete che sfiga che sfiga nella fortuna mi viene da dire Bacayogo e poi ma basta Politano e poi basta ma mi c'è adesso ma io tu cioè non abbiamo mai giocato con la squadra di titolare ci rendiamo che non abbiamo mai giocato con la squadra di titolare e mo va a mancare pure Lozano per tre settimane ma come cazzo mi dicono no devi essere positivo ma come cazzo si fa è un miracolo se Gattuso ci porta al quarto posto è un miracolo e siamo attualmente ancora a meno due dal quarto posto meno due dalla Juve perché abbiamo vinto pure lo scontro diretto come si fa ma Lozano tre settimane fuori Salta Granata Bergamo il ritorno Granata Benevento Sassuolo e Bologna tre settimane fuori questo significa diecimila partite fuori perché si gioca una partita ogni tre giorni forse ritorna contro il Milan ma ma quando giochiamo con la squadra di titolare quando Gattuso la domanda è Gattuso quando ha giocato con la squadra di titolare Allora io me lo dico per l'ultima volta per coloro che dicono che sei incoerente ma cos'è ma lo dico per l'ultima volta lo dico per l'ultima ascoltate porco disco ascoltate ascoltate io sono un sostenitore di Gattuso non sono un coglione che dice Gattuso alto perché non c'è il gioco che 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 spiegazione è non c'è il gioco che spiegazione è io questo fatto del in Napoli di Gattuso non ha gioco pur avendo i titolari ma visto che questa frase non può entrare nel discorso perché i titolari praticamente quest'anno non si sono visti nel completo quindi perché Gattuso alto perché forse dice la verità in conferenza perché che che ne so perché volete uno col curriculum incredibile e davvero che cazzo vatti che lo avevo curriculum siamo andati da merda molti dicono ma perché te la prendi con Angelotti perché io da lui da lui e l'ho detto sempre mi aspettavo pugno di ferro contro la società ma si è dimostrato aziendalista questo mi fa incazzare di chi dice ma perché ma perché difende non difende Angelotti di attacchi Angelotti questo che poi pure dal punto di vista del mercato pure con Gattuso mi incazzo però lui essendo da 7 anni allenatore e non avendo un curriculum mica può osare di dire qualcosa poi visti i tempi di covid qualsiasi società non può fare mercato è difficile molti dicono 80 milioni osi ma no 60 milioni più bonus quindi cancelliamo sto fatto di 80 milioni più osi ma cancelliamolo cancelliamolo poi riguarda osi ma è impossibile giudicarlo dopo 6 partite che poi si è fatta male ma è inutile rimarcare sempre questo discorso cioè cioè lo vogliamo capire che stiamo inguaiate cioè già con la Juve in panchina non avevamo nessuno ma proprio nessuno ma Lozano fuori tre settimane Ospina che pure ma starà facendo gli esami strumentali forse pure lui due tre settimane Meret è un punto interrogativo perché pure lui ha ricevuto quel problema muscolare e quindi giocherà per forza di cose continue a meno che non va non che ne so richiamate taglia la tela magari e lo mettiamo in porta che mi fa che mi fa ma poi dicono guarda positivo ma come faccio a guardare positivo che ripeto è un miracolo se arriviamo un quarti mamma mia mamma che situazione che situazione cioè lozano il migliore il migliore lozano che quest'anno ha fatto la rinascita incredibile che secondo me farà la stessa cosa così nell'anno prossimo covid problemi muscolari permettendo è fuori quindi che per forza di cose anche qua devi mettere politano cioè è una squadra obbligata alla fine è una squadra obbligata un undici titolare obbligato di Lorenzo Maximović Ramani Mario Rui perché pure Isai sta fuori perché tenere infortuni poi a centrocampo Bagaglio Go Fabian Ruiz che almeno lui è rientrato o Zielinski o Elmas che almeno stanno in balla con una facetta e trisattacco Politano Osimo in Petagna e e insigne come esterno non abbiamo nessuno Elmas lo adattiamo Fabian Ruiz lo possiamo adattare visto che con Ancelotti ha giocato esterno Cioffi arriverà il momento di Cioffi pure chi lo sa chi lo sa forse arriverà pure il momento di Costanzo chi lo sa sta di fatto che Guagliù sarà una coincidenza ma quando se n'è andato Alfonso De Nicola fisicamente non reggiamo più più cioè basta che camminano cinque metri si fanno male si fanno male un muciolo non è possibile richiamate Alfonso De Nicola in estate visto che Cattuso non rimane per me non rimane in estate quando Cattuso se ne andrà e in estate posso capire d'estate mi aspetto la rivoluzione lo ripeto anche ora lo ripeto anche ora prendete preparatore atletici degni di nota preparatore atletici di primo livello come facciamo senza lo zanno non lo so vabbè il potenziale offensivo sicuramente diminirà bene spero che vi siate gustati questi dieci minuti di video oggi vado in live è una domanda a me stesso vado in live se vado regalo la sub quindi chi c'è c'è io regalo la sub a cazzo quindi vediamo vediamo di cosa parliamo parliamo di weekend league parliamo di fifa di quanto è la merda parliamo anche di napoli si facciamo quattro chiacchiere semplici semplici meno male che mancano mancano tre mesi siamo a febbraio marzo aprile maggio tre mesi tre mesi scarsi brim fino a quanto possiamo durare forza non avrei sempre ciao a chiun ciao a chiun